Il polline è un altro interessante prodotto delle api che può essere utilizzato per i nostri amici animali, in particolare nei cani che soffrono di allergie stagionali. Il polline somministrato per bocca in quantità graduali e crescenti può diminuire la sensibilità verso gli allergeni ambientali stagionali. Nel gatto il polline può essere utilizzato per la gestione della cistite, questo sempre una visione di una terapia integrata, quindi i prodotti delle api non vanno mai pensati come prodotti terapeutici unici, ma spesso abbinati alla terapia convenzionale per potenziarne gli effetti e ridurne gli effetti collaterali. Un altro utilizzo del polline che ho provato di recente è stato nella cura dimagrante di un cane sovrappeso per aumentare l'effetto saziante. Grazie. Grazie.